SOS Bollette, 225 mila euro per chi è in difficoltà. L'iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, UIB e Caritas. Un intervento immediato, concreto, rivolto alle famiglie del territorio. Con questo obiettivo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha stimolato la nascita di due nuove linee di intervento urgenti, per dare un sostegno alle persone che in questi giorni si trovano a fare conti con i forti rincari delle bollette. La prima linea di intervento prevede lo stanziamento di 150 mila euro complessivi, di cui 100 mila da parte di Fondazione CRB e 50 mila da parte dell'Unione Industriale Biellese, per supportare i lavoratori dipendenti o a partita IVA. Che nonostante l'impiego si trovano in difficoltà economiche a causa dei rincari, perché in cassa integrazione, part-time o sottooccupati, sulla base salariale, quindi lavori a bassa qualifica, o su base familiare, monogenitori o famiglie numerose, monoreddito. In particolare l'obiettivo è raggiungere 750 lavoratori in difficoltà, erogando un contributo definito da criteri di priorità legati all'ISEE. Le domande verranno raccolte dallo sportello CASA, gestito dalla cooperativa Maria Cecilia, con le modalità già utilizzate nei precedenti interventi a sostegno della popolazione per l'emergenza Covid, attraverso la piattaforma Biella Welfare, a partire dal 23 marzo fino al 4 aprile. Saranno attivi un numero di telefono dedicato e personale a disposizione dei richiedenti. Un'ulteriore linea di intervento metterà inoltre a disposizione 75.000 euro, 50.000 della fondazione, 25.000 della diocese di Biella, da distribuire alle fasce più fragili, attraverso la rete di prossimità di empori solidali e associazioni di volontariato. Caritas sarà il soggetto attuatore dell'intervento.